Ancora in queste condizioni, in questa maniera fai il caporale A cosa credi che servano i galloni? Per dormire forse marmotta! Schettare! Attenzione! Riposo! E sbrigarsi! Non c'è tempo da perdere qui Vi avverto che il primo che arriva ultimo alla donata Andrà a finire dentro insieme a tutti quanti gli altri Avete sentito? Finite dentro! Avanti! Muovetevi! Sbrigatevi! Cosa è questa picrizia? E ferme, 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 zitti Lasciatemi in pace, cornuti che siete altri Ecco, mi avete rovinato il pranzo Mi stavo mangiando un pollo che sembrava una bacchia Sta arrivando il marisciano E che mi porta a me? Ecco, mi avevano invitato a un pranzo di nozze Mi stavo sedendo a tavola Hanno portato un pollo che c'aveva sei cosce Sei ce ne avevavo Oddio! Ma che c'è? Mi stavo segnando il pollo Te lo toglie il pollo? E col contorno A pane, acqua e in cella Ma perché? Così digerisci il pollo e sta zitto Puro se sognia il pollo deve andare in prigione In cella Io mi metto a porto Che fai con i piedi in mare? Per riscaldo Oh, che freddo, mamma mia Vestiti, lavati così ti passa il freddo Chi è questo lavativo? Il marchese Frederi chiede ricur Quattro giorni di riposo in branda Ma già, sarà stanco C'è stata festa a casa del Maggiore fino a tardi Scattare! Signor, sì Grazie! 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 Grazie!